La lotta a ribalzo, sognato la ributta dentro, ma Makaro la recupera, punta il ferro e va a segnare. L'arbitro non è d'accordo, recuperatona da parte di rivali che fa schiazzare bene, che si rialza a testo. Pesaresi alza la palla per Duzione che segna, cadono i 24, il semiganzo, sbaglia la lotta a ribalzo, premia Sant'Arcangelo, poi si arriva in attacco, è lì i rivali con una magia, manda al bar il difensore.